Il nostro viaggio attraverso i cantieri della Pedemontana parte da qui, dal casello di Breganze. È un casello che è attualmente in funzione. Gli automobilisti che entrano in superstrada da questo punto possono proseguire fino al casello di Malo oppure interconnettersi con l'autostrada A31. Come potete vedere i cantieri sono aperti, gli operai sono a lavoro perché si prosegue per la costruzione e il completamento di questa grande infrastruttura. Si lavora a ritmo serrato per completare questa grande opera che il presidente Luca Zai ha definito strategica. I lavori dovrebbero terminare entro il 2021. A quel punto la superstrada Pedemontana sarà interamente percorribile. Attualmente, lo ricordiamo, è aperto il tratto che vediamo evidenziato in rosso che collega Breganze a Malo. La Pedemontana, quando sarà completata, collegherà il Vicentino con il Trevigiano lungo la fascia Pedemontana del Veneto partendo da Montecchio Maggiore con l'autostrada A4 e proseguendo poi fino a Treviso all'autostrada A27. Attraverserà 22 comuni del Vicentino e 14 del Trevigiano. Percorriamo la complanare con direzione marostica. Incontriamo nel nostro viaggio decine e decine di uomini e mezzi a lavoro sotto il sole di luglio. In alcuni tratti le opere sono ad uno stadio avanzato. La superstrada è già asfaltata. Si attende alla posa dello spartitraffico e delle barriere. In altri punti gli operai stanno ancora lavorando al fondo stradale. La Pedemontana, che avrà una lunghezza complessiva di 94 chilometri, ha una piattaforma stradale costituita da due corsie per senso di marcia più quella di emergenza suddivise dallo spartitraffico centrale. Siamo arrivati al casello di Marostica. Lo vedete proprio qui alle mie spalle. Qui i lavori stanno andando avanti a ritmo serrato. Come potete vedere ci sono anche alcuni tratti che sono già asfaltati. Asfaltati, operai, mezzi sono all'opera. Sarà il prossimo casello ad essere aperto. A Marostica la superstrada per un tratto scompare perché corre sottoterra in galleria per circa 850 metri. Quindi riaffiora rimanendo comunque in trincea. Risaliamo in auto e proseguiamo lungo la complanare. In termini tecnici la cosiddetta viabilità secondaria. Il traffico è sostenuto ma non ci sono rallentamenti particolari. I lavori verso il Bassanese, beh anche in questo tratto è evidente, proseguono a passo spedito.